Ciao, vorrei parlarvi del nuovo tablet Acer A200, lanciato recentemente sul mercato. È l'ultimo tablet che monta il chipset Nvidia Tegra A2. Monta uno schermo da 10,1 pollici per 1280x800 di definizione. Ha le stesse caratteristiche hardware del fratello maggiore, Iconia A500, quindi come dicevo un processore Nvidia Tegra A2 e una memoria interna da 1 giga. È stato rivisto il design con il nostro nuovo logo e sono state eliminate le caratteristiche avanzate che magari la maggior parte dell'utenza non interessavano, come per esempio la fotocamera posteriore o la porta HDMI, ma sono rimaste quelle principali, quindi una fotocamera anteriore da 2 megapixel per la possibilità di utilizzare videochiamate, la possibilità di collegare dispositivi attraverso la porta USB che possono essere chiavette o hard disk esterni in modo tale da godere dei contenuti direttamente sul tablet. Oltre alla possibilità ovviamente di utilizzare una scheda micro SD fino a un massimo di 32 giga e di poterlo collegare direttamente al pc di casa per poter caricare i contenuti sulla memoria interna del progetto. Grazie.